buongiorno a tutte e tutti e grazie per essere qui l'argomento di oggi mi è stato suggerito da un fatto di cronaca forse avrete letto se ne riparla in questi giorni della signora che ha cercato di rintracciare la sua madre naturale che l'aveva data in adozione perché per una terapia aveva bisogno che questa signora si sottoponisse a un prelievo di sangue facesse un test genetico sembrava che ci fosse un rifiuto invece proprio in questi giorni è arrivata la notizia che la madre si sottopone al test non sappiamo di che terapia si tratti però mi è venuta l'idea di parlare un attimo di test genetici perché un tema di attualità è un tema molto complesso perché ce ne sono vari tipi molto diversi con importanza e ricadute molto diverse a volte se ne parla un po' con faciloneria mi è sembrato il caso di fare chiarezza e di fornirvi qualche indicazione anche qualche link per approfondire perché nel tempo che abbiamo a disposizione possiamo veramente fare una carrellata e poco più si tratta in realtà di un argomento molto recente la mappatura del genoma umano che è diciamo la ricerca di base che ha poi permesso di approfondire tutti i tipi di ricerca genetica è stata completata nel 2003 di test ce ne sono tanti possono servire a tante cose possono servire a diagnosticare una malattia prima che si manifesti a confermare una diagnosi in presenza di sintomi a individuare una terapia più adeguata o orientare una terapia perché alcune analisi genetiche permettono di valutare l'efficacia di questo quel farmaco per esempio in oncologia molti test tra i più noti tra i più diffusi ci sono quelli legati alla procreazione ci sono per esempio dei test preconcepimento che fanno possono fare i futuri genitori per evitare la presenza di malattie genetiche ci sono delle malattie di cui si può essere portatori sani per esempio la fibrosi cistica in alcune famiglie a rischio può essere il caso di fare questo test per vedere quale rischio c'è che il nascituro sia affetto dalla malattia con tutti i dubbi e i problemi che questo crea ora dopo entriamo un attimo in questo tema perché comunque non sono mai test da fare alla leggera non è l'esame del sangue per sapere quanto colesterolo sono informazioni importanti che possono cambiare la vita tant'è vero che i percorsi fatti bene nelle strutture pubbliche hanno quasi sempre anche la possibilità di un supporto psicologico che può correre eh l'esempio della fibrosi cistica ci si può trovare sani a rischio di avere un figlio malato ma anche a chiedersi se queste informazioni è il caso di trasmetterle o no ai parenti perché se si ha si è portatori del gene anche i fratelli potrebbero desiderare di sottoporsi a questo testo oppure no quindi si mettono in gioco cose che non riguardano solo il diretto interessato o la diretta interessata ma ma la famiglia ci sono poi i test pre natali quelli che si fanno durante la gravidanza per scongiurare la presenza di alcune malattie per fortuna questi test sono sempre meno invasivi bisogna però tenere presente intanto che non c'è nessun test che garantisca al cento per cento che il bambino nasca sano quindi alcune malformazioni non si possono individuare in molti casi si può capire che è presente la malattia ma non in che forma non in che livello di gravità e comunque eh ci si creano degli interrogativi in certi casi si potrebbe per esempio decidere di interrompere la gravidanza è comunque un problema delicato è un problema delicato anche quando si fanno test su una persona adulta o su un bambino perché si manifestano dei sintomi magari c'è una familiarità per una malattia si cerca di confermare una diagnosi oppure visto che come dicevo la cosa non riguarda solo il diretto interessato ma anche la famiglia i test rivelano che qualcuno in famiglia ha una malattia di origine genetica si può sentire l'esigenza di fare un test per sapere se si è portatore di questo stesso gene oppure no fermo sapendo che le informazioni che si possono avere sono relative la genetica può dire molto ma non tutto per esempio quasi mai si può sapere a che livello di gravità la malattia si svilupperà e questo può cambiare molto le cose ci sono diversi tipi di malattie sono malattie legate ai cromosomi come la sindrome di down che si chiama anche trisomia 21 poche malattie legate a un singolo gene appunto perché le cose sono molto più complicate quando si parla di salute di quello che ci piacerebbe molte malattie sono legate alla combinazione di geni diversi ci sono malattie molte malattie rare per esempio sono molte malattie del metabolismo o malattie neurologiche che in genere si manifestano nell'infanzia e sono malattie per cui spesso non c'è cura anche questo è un un dato da valutare è chiaro che se si è di fronte a una persona malata sapere di che cosa si tratta comunque sapere quali tipo di precauzioni quali trattamenti sintomatici è opportuno adottare è utile però non è che la diagnosi porta con sé la cura un esempio abbastanza noto è la malattia di hondington quella che una volta si chiamava corea di hondington o anche malattia di lou gehrig c'è un vecchio film tale con gary cooper che ne parlava perché lou gehrig era un famoso sportivo americano uno dei primi a cui è stata diagnosticata questa malattia che è una malattia neurodegenerativa molto grave per cui non esistono malattie se c'è qualcuno in famiglia che ha questa malattia i figli hanno il 50 per cento di probabilità di sviluppare questa malattia ciascun figlio il 50 per cento il che vuol dire che se ci sono due figli non è che uno si ammala e uno no possono ammalarsi tutte e due possono anche non ammalarsi nessuno dei due i test non dicono quando si svilupperà la malattia neanche a che velocità progredirà purtroppo questa malattia non ha forme leggere comunque il destino è comunque la morte per cui è chiaro che bisogna se c'è la malattia in famiglia decidere che cosa fare è una decisione molto personale che ha sicuramente bisogno di un supporto psicologico c'è chi si sente più tranquillo sapendo chi magari ha delle cose che vuole mettere a posto e sapere che prima o dopo ammalerà di questa malattia gli dà la sicurezza di fare quello che si deve fare chi preferisce non sapere è molto personale è una cosa da valutare è uno dei motivi per cui questi test non vanno fatti con leggerezza perché una volta che si ha il risultato si può anche decidere non guardarlo naturalmente ma è molto difficile è molto difficile non coinvolgere altre persone bisogna essere figli unici senza parenti ecco io lo potrei fare perché non ho parenti in vita quindi non ci sarebbero grosse conseguenze ma chi ha figli chi ha fratelli chi ha genitori in vita sa che mette in gioco altre persone ci sono anche delle forme tumorali che possono avere una base genetica piuttosto rare ma ci sono quelle più note che sono anche tra quelle più comuni sono le mutazioni dei geni di rca che nelle donne aumentano il rischio di sviluppare i tumori al seno all'ovaio è quello che è successo all'angelina jolie all'attrice angelina jolie forse ne avrete sentito parlare che ha deciso a un certo punto una mastectomia proprio perché sua mamma è morta di tumore mi pare all'ovaio lei stessa si è ammalata ha deciso di fare il test e di solito effettivamente il test si fa quando si ammala una donna che ha familiarità per queste malattie allora si valuta insieme alla paziente la possibilità di farlo se viene fuori una positività che in questo caso non dà la certezza di ammalare da una probabilità molto elevata si decide insieme che cosa fare se fare una sorveglianza o se fare delle operazioni per esempio una mastectomia in questo caso se si teme tumore al seno è chiaro che asportare i seni da un buon margine di sicurezza ma non è un intervento che si fa a cuor leggero e anche in questo caso per esempio se si hanno sorelle c'è da chiedersi se dire loro questa cosa se vorranno saperlo esiste un diritto a sapere ma anche un diritto a non sapere che va rispettato questa era la cosa che mi colpiva molto nella storia di questa mamma a cui veniva chiesto di fare un test per la figlia in questo test qualunque sia perché io non so di che test si tratti possono esserci delle informazioni che questa donna preferiva non conoscere su se stessa i test genetici hanno tutta una serie di implicazioni anche il solo fatto di aspettare il risultato crea stress crea ansia crea sensi di colpa spesso nei genitori di bambini che hanno malattie genetiche c'è un del tutto ingiustificato ma molto umano senso di colpa sono io che gli ho trasmesso qualche cosa di guasto certo che non è colpa però è comunque una cosa che può complicare la vita non sempre poi ci sono le cure non sempre si sa come dicevo prima quanto la malattia sarà grave quando si manifesterà c'è il problema di parlare con i familiari ci sono notizie che si potrebbe non voler ricevere perché purtroppo i test genetici a volte svelano anche un sacco di paternità che non sono paternità o un'adozione che non è stata detta se si fa un test in famiglia se quel figlio non è figlio di quel padre viene fuori è chiaro che questa cosa può scombusolare parecchio in ogni caso appunto io vi metterò anche qui dei link che vi possono dare delle indicazioni cioè per esempio Choosing Wisely che è un'associazione di medici che dà indicazioni sulle terapie appropriate che indica una serie di patologie di situazioni in cui non è il caso secondo loro di fare il test genetico e vi metto il link quello che è ancora più complesso sono i test rivolti al consumatore se scrivete test genetico su google vi offrono di tutto ormai non costano moltissimo costano un migliaio di euro ci sono test mirati per esempio per intolleranze alimentari o test che dicono vi diciamo se avete maggior rischio di sviluppare alcune malattie l'infarto il diabete o addirittura una mappa dei geni con tutti i rischi c'è un business enorme un dato che ho trovato parla di una giro d'affari nel giro di due tre anni di 35 miliardi di dollari che sono più o meno 32 33 miliardi di euro non poco perché perché noi abbiamo sto vizio di aprire il vaso di pandora ce lo diceva già la mitologia ecco in questo caso non è proprio una buona idea non è una buona idea perché è difficile avere informazioni precise tutte queste malattie che ho nominato hanno delle componenti genetiche ma anche delle componenti ambientali di stile di vita molto forte per cui c'è il rischio di prendersi uno spaventone senza motivo o al contrario di sentirsi sicuri altrettanto senza motivo che uno stile di vita sano serve a prevenire le malattie lo sappiamo è quindi il caso di farlo e poi possono venire fuori cose a cui magari non abbiamo pensato e che non vorremmo sapere perché tendenzialmente credo che nessuno di noi vorrebbe sapere la propria data di morte o qualcosa di simile quindi se c'è qualcosa di molto brutto che ci aspetta su cui non si può fare un granché è il caso di saperlo probabilmente no anche perché può essere un errore perché questi test ovviamente che vengono magari venduti online o fatti in modo un po artigianale valgono quel che valgono per cui nel migliore dei casi c'è il rischio di dover fare poi una fila di analisi sempre più spaventati sempre più preoccupati spendere un sacco di soldi e non cavare un ragno da un buco i test sono un un tipo di strumento prezioso pensiamo alla possibilità di diagnosticare la fibrosi cistica che in questo caso permette anche di intervenire con delle terapie non sono delle cure ma sono delle terapie che migliorano la qualità della vita da subito quindi limitare il danno bisogna avvicinarci se c'è una motivazione seria un'indicazione di rischio seria sempre dietro prescrizione di un medico e con aiuto di un medico nessun test serio vi verrà fatto se non c'è una prescrizione di un medico e sempre con un supporto psicologico perché comunque noi siamo piuttosto fragili e questo tipo di notizie possono avere un impatto molto grosso non sono cose da fare a cuor leggero io spero che la signora che ha scelto di sottoporsi al test per la figlia e la figlia abbiano buone notizie stiano bene purtroppo dietro i test non ci sono sempre buone notizie quando c'è qualcosa di concreto si può scegliere di voler sapere però è inutile andare a cercare i misteri quando quello che dobbiamo fare per stare bene in salute lo sappiamo benissimo e quindi cerchiamo di farlo e di stare sereni e di non chiedere alla medicina miracoli che ancora non ci sono grazie a tutti per ora e risentirci presto